Allora Linun, Goldengo, Switch Pokemon no, Viscanner no, abbiamo una run assurda in corso che di cui esce il primo episodio oggi, questa run qua su Youtube e dobbiamo massimizzarla, cioè catturare più shiny possibili e roba così anche perché la classifica per ora è sulle daily ma vogliono implementare altre robe adesso, dategli tempo ragazzi 62 milioni, minchia, c'ho la fresca che ha Waze Earl, porco Giuda, c'ho la fresca che ha Waze Earl magari fanno parte del team di sviluppo e stanno testando cose per quelli li vedete in leaderboard anche può essere, se rimane uno lo catturo, minchia è rimasto uno sul serio è vero che c'ho anche l'item che fa, io lo catturerei questo non ce l'ho ancora no eh ci ho giocato un po' io eh poi vai anche che io all'inizio sono andato un po' più lento prendo la fresca ora tanto no, no eh ho giocato un po' però una run così ti capita una volta ogni totte soprattutto siamo in punto della run dove se riusciamo a resistere cominciamo a trovare roba molto sontuosa a livello di shiny e di e di leggendari di voucher dovremo trovarne sempre di più quindi una run del genere la devi sfruttare come funziona circa è free to play eh sul sito, ognuno c'è il suo account eh c'è la classic mod, se vinci il livello 200 sblocchi la endless che è questa eh poi dopo che giochi nel mio discord trovi tutte le info cioè devi giocare più che altro eh ogni show, ogni volta che tu vinci un fight c'è uno shop a cui puoi prendere un item ci sono le uova da far schiudere ehm e ci sono gli shiny che sono molto importanti perché gli shiny durante la run ti danno un livello di luck che influisce su questo shop qua tu più shiny hai più vedi la luck che è questa è alta in squadra e quindi più item puoi trovare buoni nello shop più item buoni ci sono nello shop più pokemon rari o shiny puoi trovare eh di conseguenze idealmente e robe così e quindi ti punti a fare il team e boh e vedremo perché insomma ci sono due tre idee ora che c'ho anche vedremo insomma quindi sostanzialmente devi puntare a a trovare shiny e catturare i leggendari che trovi che sono gigarari e roba e via adesso vorrei fare una monotype in classic dopo questa forse che ho visto che anche Smolant l'ha cosata ed è figa cioè figa è bella da vedere secondo me però una run così ti capita una volta ogni tote conviene sfruttarla perché ora noi abbiamo uno di quelli degli shiny se ne trovo un altro rischio rischio di cominciare a trovare shiny a manetta quasi capito leggendario a manetta quindi ho quattro master ball staranno qua c'ho una voglia di giocare l'assurda baby do lies ok no no il top score possible la classifica ancora per ora è solo sulle daily la classifica che vedi nella la leaderboard che ce l'ha al momento è solo sulle daily poi la la cambieranno la farà meglio tutto prendo la nugget cioè non so se ha senso rollare se non trovo la rarità alta questo non l'ho mai beccato è buono da prendere è raro ora è wavrum chat è forte è raro chiedo eh non l'ho mai beccato sembra raro non lo so di preciso però allora lo prendo sarà rino zio cane devo scoppiare quel coglione di stoutland prima typing fa merda acciaio veleno fa merda come typing c'è la 4 perda beh si non è che però lo prendi è raro lo provi a prendere dio merda va bene ci sta che palle ok buono anch'io ce l'ho lo shiny charm mi serve il secondo però perché staccano io lo proverai la rockball a questo preso godo molto bene che questo è rarino staccano fino a 4 lo so lo so waze secondo me almeno il gold angle ok vabbè revive c'era l'iron che è buono però userai il revive così non sto a spendere infinito di tenerla fresca qua warm madam no g max venus arlo svice metto ingoldengo qua ingoldengo per farmare non per altro così almeno mi prendo un po' di fresca che non è male secondo me qui vero ancora è tutto da esplorare il gioco comunque perché ho sentito anche il crappone sti giorni che l'ha provato venerdì su youtube in live che l'ha gasato alla fine non pensava ma in realtà l'ha gasato l'unica cosa che mi ha detto che non gli piace è che si schiudano le uova durante le battaglie cioè durante la run si schiudano le uova e secondo lui le uova che si schiudano durante la run dovrebbero dare un edge anche in quella run lì cioè ti dovrebbero aiutare durante quella run lì le uova che si schiudano che ci sta come cosa che implementino il fatto che non solo agli starter per le run dopo ma anche durante quella rally ti danno un edge effettivamente ha senso logico come cosa boh c'è il revive però io tre roll li faccio qua boh do il revive dai non mi va di rollare di nuovo qui perché vorrei trovare una rarità più alta ma quella è una cosa che faranno infatti prima o poi di mettere item di solito cosa si cerca dipende da che punto sai della run io ora sto cercando molto gli shiny charm che mi aiutano a mi aiutano a trovare più shiny contro e gli shiny sono importantissimi per il luck dello shop ti ho detto quindi io per dire ho catturato gli star run qua l'illigante livello 2 di rarità che è molto sontuoso però ora ne sto cercando altri buono il crit ma che livello sai francone io poi sono anche in un modo dove catturo molti pokemon che non ho perché sfrutto star run qua che capita una volta ogni tanter no di per fare per fare un po' di robetta cioè per catturare i pokemon che non ho se rimangono a vita bassa e robe così così almeno me lo levo dal cazzo come cosa da fare reroll secondo me ok eccole minchia l'exp charm penso sia da prendere forse però non penso cioè il punto è che alla fine gli altri livellano meno questi qua raggiungono il cup gold ding venusor però gli altri no un paio di rerolli devo fare se trovo c'è lui lo prendereste prendiamo rerolliamo per trovare lo shiny charm ah ma è rarità masterball lo shiny charm oltretutto non è rarità questa lo prendo lui è rarità masterball lo shiny charm tanto quindi questo lo prendo è buono perché almeno anche la squadra livella meglio ora ok andata bene su bg prima mi rode l'acqua non è rarità non mi sembra veramente il caso se posso questa immaturità totale faccio un turno con loro due in così almeno vediamo un attimo come succede hyperpozza non è male vero però non so se darla all'exca drill o rollare boh magari torna utile per il boss cioè non lo so è che rollare qui se vorrei rollare con no will you switch pokemon si metto un attimo il venu dai voglio dei leggendari zio paperong però porco giuda sta tranquillo roppiamogli subito l'attacco eh si silva l'exp è importante poi perché se arrivi avanti ti serve anche se generalmente sono i due pokemon con cui carry particolarmente ti dico la verità per cui boh devi valutare te io stare in qua la sto cercando di fare per anche sbloccare più roba possibile buono merda sono un coglione perché non ho fatto strength up rischio eh cioè se mi uccide venusor questo sicura manetta rompe il cazzo ok uso il pad quello che uso anche per la kaizo f310 logite che ne ho uno qua e uno a bologna ti interessa forse era da farli i viscan mi servono altri shiny charm qua forse abbiamo un voucher tra poco sicuro ne prendiamo uno all'ottocento di voucher 271.000 di fresca fra reroll super ex charm lo prendo sempre per lo stesso discorso di prima golurk i viscanner no we switch pokemon direi di metterlo un venusor che mi fa un turno no 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 vabbè lo prendo sti xp charm mi li sta dando manetta li sfrutto no è il nuts questo questo nuovo tangia sontuoso wazer cioè questo è il nuts pensavo resistesse ah resiste infatti la domanda è ha due di vita frate io quasi quasi la ball dico la verità gliela proverei la rock ball merda 30 d'attacco ma è più eh lui è fisico è forte cazzo forte cazzo quello mi mancava zinco è buono zinco è buono da dare al venusor non è così oh edge slash è da prendere sta roba penso di averlo beccato solo un'altra volta però mi ha fatto shadow clone è raro è da prendere questo e edge slash raro si gode allora buono ah minchia è vero che è quello che cambia forma nice nice che ci mancava ma si evolve da qualcuno o è da solo lui molto bene bro un altro raro preso si gode molto bene stiamo farmando un po' di roba per le run da far dopo blizzard è forte anche x special però ok a duevo upa anche upa mi sa che è raro upa forse addirittura semile no non lo so chiedo non lo so non ho idea non mi ricordo upa è raro upa è misterioso zio peperoni uuuh merda il nazzup è da prendere è un pazzo upa scusa scusa è rimasto io venus or master bolla upa mi sa porco dio ma che danno mi ha fatto fra cioè io c'ho è un tank si ok che è super f ma è comunque un danno assurdo secondo me devo tirare la master a upa qua mi sweepa il team bro questo io userei la master qua non è così porco giude minchia ma che cazzo è sta roba oh è solo che l'item lo puoi usare dopo solo che hai ucciso uno nelle sfide a coppia quindi devo fare comunque così ora dopo in caso uso il max su venus ora ok focus band il nazz eh ho la focus band che l'ho proccato due volte ma è rimasto vivo l'agislash eh mi muore il venusor però sti cazzi no dopo l'ho lo max è che nelle sfide a coppia puoi catturare solo dopo che hai ucciso uno dei due no quindi faccio di nuovo make it rain e energy ball qua secondo me ok buono ora mi muore il venusor almeno che non si riprocchi la sash un'altra volta sarebbe il nazz però e poi tiro la master perché questo mi uccide altrimenti quanto pare no focus band again merda il nazz io forse una rock ball la provo la rock ball la puoi provare sulla vita rossa la puoi provare anche ora non la puoi provare ora la rock vero come è master qua io serai la master rega perché dopo mi inta un sacco la run però non lo so cioè mi sembra sprecato eh nei quattro ok ma quando comincerò a a beccarsi boss contro ti serve bro perché ti sweeperano la squadra questi eh dai nandimaster però caccia mitica al pokemon ma ancora non l'avevo fatto merda oltretutto che i V c'ha è fortissima stai V considerando che lui è speciale ma lo in squadra no perché è under level a 300 livelli in meno eh però è il nazz aver catturato Upa qui farà contro quelli eh no se sono dei semileggendari li vuoi catturare bro eh una master l'ho usata quindi ora ne vorrei una quarta però eh beh comunque è troppo divertente sta roba cioè mi diverto come non mai ieri ne parlavo con Mattia con Poli io mi sto divertendo una cifra ora cioè fatti i primi round che sono una palla qua che puoi beccare più shiny più robe i boss che 300 livelli in meno ti possono sweeper la squadra e tutto è giga divertente cioè poi chiaro voglio giocare anch'io la classic in realtà poi però vediamo adesso una roba alla volta se rimane uno lo potrei quasi prendere per le caramelle ma no che cu- merda Peppe ma siete vergognosi che culoni che siete zio peppers pp up ultra ball pp up ultra ball hyper pozza un paio di bolle prendo dai pp up perché ah no pp up è una merda cazzo dico qua farma fresca bro perché polited merda ma che culo io non ce l'ho ancora uno shiny rosso merda ma alcuni di voi sono veramente schifosi si è vergognosi cazzo e intanto up è in saccoccia del thunder con i vi buoni e si gode cazzo e ci go le due non sono gli altri sculati bro perché stanno giocando il mondo intero e ogni tanto salta fuori qualche sculatone in chat la cosa molto grave senza sub sto scherzando che rollano in nuts sti luridi però forse sto polited quasi quasi adesso lo provo a catturare non è così è basso di vita però non vorrei usare la rock ball onesto vabbè lo metto ai box almeno mi tolgo il fatto di doverlo catturare che un po' una rottura se lo vogliamo giocare almeno la bia lì e via ppup è ok però vabbè x special che cazzo è sto stankfish perché di sto colore cos'è sto stankfish è uno stankfish di qualcosa è da prendere sta roba è da prendere quello di galare sarà più raro forse non lo so non lo so è che se è raro io lo devo prendere bro da sfruttare non è detto che torni è il fatto che lo rollo facilmente anzi che palle ha pure i vie buone decenti quantomeno ma furo per farmare la fresca con con make it rain cioè voglio farmare soldi con make it rain qua tipo qua in realtà lo switcho così almeno riprende però solitamente perché voglio farmare soldi con make it rain mi rifaccio un po' di vita che che palle sta roba va bene dai tanto c'ho ma veramente ho missato ok eh trattore sono gasato si merda disumano ma quanti ne aveva lui tre il massimo è quattro tipo no è disgustoso con quattro cosi questo questo oh uh iron variant che io già ce l'ho quindi questo lo potrei anche catturare volessi però il mio è meglio a quanto pare ok tanto c'ho gli avanzi lui è lui è speciale generalmente a quanto pare merda che danno porco dio che danno mi fa ma qua da fare uno strength up immediato e droppargli l'attacco cioè altro che speciale questo è incazzato e dobbiamo droppare l'attacco e poi lo sciottiamo questo lo stagliamo col venusor però bella nicona grazie mille bro degli otto ma va bene l'ho già l'ho già un po' cosato il problema è se mi critta questo energy ball dai buono molto bene bro molto bene molto bene non lo catturo tanto già l'avevo l'ho schiuso dall'uovo perché i paradox li puoi catturare solo se gli schiudi dalle uova by the way ho il voucher no ora mi pare sbaglio c'è il voucher da usare c'è un voucher da 5 uova oh ma che è il leggendario qua lo mettiamo ah ha cambiato il coso questo è quello delle shiny capi dove volete che lo metta shiny ok ci sta oh un epico attenzione bro eh attenzione attenzione please che palle che da Maruac rischio di morirci poi per questo lo voglio shottare sì sì a Zekrom lo so ci ho visto grazie dei follow nuovi ragazzi dipende dalla rarità della rarità dell'uovo ogni quanto si schiude rock ball io le prenderei 5 rock ball no sì questo è leggendario shiny speriamo mi servono bro robe così sontuose ma energy poi gli fa male questo eh eh ho anche due overgrow cioè su questo io ho 5 focus band e 4 leftovers cioè ti rendi conto di quanto è rotto sta roba è disgustoso sto venus che culo il crit zio pebers ho rotto il cazzo a critare sto tipo se posso cioè ha veramente rotto i maroni bro a critare questo stronzo critta solo c'è pp up ok magari pp up lo potrei dare a una mossa di tinca tocco perché dopo ma play rough è già pp maxato no vero no se vabbè dai sei ridicolo bro sei imbarazzante se davvero è successo sei imbarazzante è vero che aveva psichico goldengo che gliel'ho insegnato oltretutto faccio make it rain perché mi dà soldi mi sa che a 100 milioni c'è un achievement oltretutto da fare non per dire però re-roll 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 nugget almeno mi ripago la fresca che ho usato per re-rollare sismi toad no will use each pokemon io ho un giro di venu lo farei almeno io tiro un energy ball matta e via ho appena ho startato da poco poche rogue qua però fai conto quindi per ora tutto ok per ora tutto ok caro tutto a posto re-roll penso re-roll 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 che merda sta roda io si vi scanner un po' liberate no voglio switch dobbiamo andare in di goldengo vorremmo arrivare a un milione di fresca qua cioè idealmente a un milione a 100 milioni che sblocchiamo anche l'achievement merda questo peso sta incazzato questo tipo forse devo fare psichico qua anche perché ora muoio dall'idropompa probabilmente a meno che non si attivi la sash ok con psichico crepa lui è basso di vita più che altro magari è super f si dai è perché ti dice se è meglio di quello che tu hai già catturato che quello che hai già o meno con l'iviscanner quando quello che trovi è meglio di quello che tu hai è verde è raro questo mi sa di si a occhio a occhio questo qua mi sembra molto raro bro non vorrei dire però mi sembrerà a occhio questo merda quante oltrecreature sto trovando venosor vai in caro l'izzidalo la domanda è se cioè ma da quando puoi provare a catturarlo da quando ha due tacche o una perché se da quando ha due tacche è ok se da quando ne ho una è un po' peggio perché non vorrei usare la master qua eh che usare la master è brutto dopo me ne rimangono solo due e le master certe volte tipo servono tipo l'altra volta su rapidash che ho dovuto tirare le master per non morire un master forse dai se è così raro e forte lo master bollo c'è pure l'IV best cioè se mi faccio shottare la squadra poi rischio che muoia di l'issid se arriva basso riprendiamo questi ho due master mi servirebbe un'altra master ora e appunto anche per quello lo volevo merda oggi abbiamo già catturato quello là rottissimo psico come è che si chiamava pure quello là psico che mi sfugge il nome che abbiamo catturato prima più questo assurdo upa merda oggi veramente siamo partiti alla grande cazzo e i sceni non ne ho trovati per ora stamani c'è l'illigant il mio lilligant ma in che senso da dove consigli per iniziare con una run caro cosa intendi bella ragazzi buon dia a tutti big nugget ok è fresca anche se mi servirebbe è dalla classic per forza anche perché se non vinci la classic non puoi sbloccare questa questa è spura però devi incrociare la run giusta e soprattutto è lunga però se arrivi avanti sperando di arrivare il più avanti possibile sblocchi robe fai cose eccetera a me servirebbero decisamente altre master ball qua perché error roll mystic to water prenderei la nugget 2 venom ottima sta roba ho perso i primi 2 try a round 6-7 perché dovevo anche capire come funzionava poi ho vinto la classic però vabbè c'è nel senso una volta che sai che c'è cosa la classic è molto challenging farla con determinati typing tipo c'era small hunt che ieri faceva l'altro giorno faceva la monotype della classic contro altri streamer una roba del genere faceva la endless contro altri streamer cioè se lo fai così è molto sburo secondo me vuoi che fare make it rain così almeno mi prendo un po' più di fresca vero meglio così le monete sono importanti anche perché c'è un achievement a 100 milioni quindi se riuscissimo a raggiungere i 100 milioni non sarebbe male non lo so voglio prenderla la nugget ma trovo una rarità rotom questo no merda questo oltretutto è una palla bro qua rischio di dover provare a fuggire o usare la master se non mi fa fuggire questa è una rottura di cazzo dio boia ho tre avanzi io eh quindi cattura non posso fare il sito ovviamente porco giuda quanto cazzo mi leva fra merda wow mi sciotta a meno chi lo metta in ex cadrino un turno lui fa l'attacco oppure provo a fuggire perché questo mi sciotta la squadra bro questo mi sciotta la squadra ok ma poi se lo becchi che non ti fa fuggire ti sciotta la squadra quello perché non ho messo Venusaurine boh vabbè magari farm un po' di fresca di item di cose adesso è vero noi abbiamo le uova che si schiudono a breve con anche la epica poi Goldengol l'ho catturato caro Goldengol l'ho catturato però mi sa che come starter non è buono a livello di utilità all'inizio però poi dopo ti aiuta merda che vice ha frate è disgustoso questo se lo catturi poi lo sblocchi lo starter anche questo che vice ha l'altro aveva due best cioè anche questo non male di via tra poco ci arriva la epica di uovo merda la epica la epica shiny sarebbe molto suntuoso le roll x special c'è un calirex vedo un calirex capo vedo un calirex che mi sa che è da prendere penso sia da prendere penso sia da prendere il calirex penso veramente merda oggi veramente siamo startati in una maniera disgustosa cazzo penso sia da prendere così mi viene da dire vediamo l'AV di calirex merda è pure ok questo no 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 faccio un make it rain e un rock slide oggi veramente siamo startati a manetta capi merda non c'ho leppe su x cadere il che cazzo però merda ma questo lo puoi catturare a vita arancione o rossa solo spero di non ucciderlo di rock slide eh merda che danno mi fa ok viene octaul eh il top sarebbe prenderlo senza la rock ball calirex bro è rarissimo cioè da prendere per forza fai non prenderlo zio cane poi unnerve che è una delle abiliti più rotte penso ci sia unnerve c'è scritto bro c'è unnerve c'è scritto viene anche scritto cazzo palle però che si cura porco dio il punto è che sludge bomb gli fa male merda come andiamo oggi ci si prova bro a fare il meglio possibile oh ma quante ne ha di ste cazzo di berry che lo curano porco dio come fai ad essere ancora burnato il mio ah è vero che non fa usare gli item è vero è vero minchia fortissimo cazzo contro i boss quella ha finito ora le citrus vero si no 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 non crittare te prego ok ok dopo l'ora esammono quello perché non voglio usare la master per questo oggi ho catturato upa in mezz'ora ho catturato upa ho catturato qual'era l'altro e ora sto catturando cali rex assurdo oggi merda che due palle però sta roba non voglio usare la master bro se necessario la uso però merda ma è possibile bro cazzo guarda che stazzo oltretutto guarda che roba no mo mi tiro mi resto un po' di roba ovviamente però per anche restare tutti essendo la seconda stage quanto costa il sacred dash 3 milioni però c'è anche un revive qua quindi no 3 milioni mi sembrano troppi c'è tanto alla fine ma lo shiny anche se è morto influenza la luck vero ok allora lo resto tanto c'è i carry sono questi bro voglio fare l'achievement dei 100 milioni tanto roto ma ex cadril c'è com'è possibile che non mi usi ci aveva infinite leppe si vede che deve arrivare una volta prima alla fine di usarla perché l'altro aveva nerve ok più special attack meno special defense questo è forte su goldengo al posto della natura che ha è molto forte su goldengo perché ora aveva meno special defense più difesa ma questo è raro di nuovo non lo so non l'ho mai visto florges è buono no ok non l'ho mai beccato dico minchia magari è raro di nuovo che cazzo ne so però un bidone floroflores bello zinco lo do no reflection grazie grazie dai follow giuseppino e no ad zwek grazie ragazzo prezzo vabbè questo lo prendo in max revive metti che mi torni utile averlo per un determinato pokemon lo rimane a 1 questo c'è venusor che ha 5 focus asce infiniti avanzi anche c'è rottissimo ok merda rocco rt rerollo secondo me qua magari merda rerolliamo o prendiamo il grip claw di nuovo grip claw a venusaurora perché l'altro ne ha già due grip claw a venusaurora perché a noi serve la rarità masterball oggi siamo disgustosi cazzo oggi siamo disgustosi cazzo ha pure best e il punto è che questo non penso di riuscirlo a stallare mi sa che questo lo devo non lo so è No che rimane Dai veramente Ha flinciato l'Athias Allora quante sito sa Due l'Athias Perché io non vorrei usare la Master Se fosse possibile non usarla Preferirei non usarla Quindi dovrei fare Metal Closoling On E poi provare Un Makey Train Merda Merda Che da noi frate È disgustosa sta roba Merda Sono morto frate Qua devo usare la Master Mi sa Devo uccidere però prima Linon Mi sa Vero Devo ucciderli non prima Vero Ok Ok Cosa fa Soul Earth Qua devo usare la Master Cioè vedi perché le Master Borg sono importanti che ne avevo tre No non prenderne più Thunder Focus Band Oddio il Venusaur Voglio provare senza Senza la Master Perché lui ha finito le Citrus Ora Però mi guipa il team Devo usare la Master Per forza Vero No non posso rischiare di perdere questo Però c'è È una follia È una follia È una follia È una follia Oppure guarda che vice È assurdo sta roba Perché mi dici Leavited Però come ability Dovrebbe averla nascosta No Ma lo vogliamo mettere in squadra Latias Secondo me è troppo under level Cioè buono per le run dopo Però è troppo under level Non è da mettere in squadra La sblocchi con le Candies Eh ok Con Exca è buono È vero Potremmo metterlo su Rotom Latias su Rotom Se voglio Ma se io metto Latias su Rotom Gli item di Rotom Vanno a farsi fottere ora Cioè com'è che funziona sta cosa Che non lo so per bene Vabbè che Rotom c'è poca roba Quindi c'è sti cazzi Lo voglio ammettere su Rotom Però è gigante Under level Lui C'è Diego oggi Mezz'ora ho catturato Upalatias E Altri due Calirex Upalatias Calirex e un altro In mezz'ora Cioè è disgustosa sta cosa No vabbè Non lo metto in squadra Dai Sono giga under level Ce l'ho i box Per le run dopo Ma Solo che ora A me servono Bro Delle A me servono necessariamente Delle Mi resto la squadra qui Non mi interessa A me servono necess... Non ci sto credendo Capo Io non ci sto credendo Capo Qua è chiaramente Da Da usare la master Purtroppo Qua è master Diretta Ragazzi Cioè Non Vedi quando ieri Dicevo che erano Da prendere le master Ball L'altra era Latias Ma pure La natura Cioè ho catturato L'Athos Latias Upacalirex E un altro In mezz'ora Solo che non ho Master Ball Quindi se roba Ecco il boss Sgravo Sono finito Bro Quando ieri Dicevo No ragazzi Cioè No veramente Cioè Cos'è Ragazzi Cioè Cosa sta succedendo Non rerollo qua E potrei trovare Il lucky Il coso degli shiny Però la master La prendo sempre Qui Oggi Oggi Veramente Bo Disgustoso Merda Latias Latias Scali Rex Upacalirex Un altro Che non mi ricordo Il nome Mi pare Mi potete dire L'altro Che Che non mi ricordo Il nome Diocane 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 Devo Devo riuscire a fuggire Però Devo usare la master Ball Mi sa Provo un altro run E poi uso la master God Ok Qua uso il sacre dash Mi sa Perché c'è un altro boss Ah perché non ti fa fare lo shop È vero Devo provare a fuggire Devo usare la master qua Mi sa Sì ma che ondata di 10 è questa C'è disgustosa St'ondata qua Cosa cazzo Beccato bro Ok Nuts Porco Giuda bro Merda ma Cioè È raro È per caso raro Che fatica Abbiamo una master Via Latio Slatio Scalirex E compagnia bella Porco Giuda ma che fatica Cioè ma è disgustosa Sta roba Cioè Mamma mia Che cazzo ho trovato Cioè Ci servono altre master Almeno altre 2-3 Per stare tranquilli Ma quanto sta Più 6 di difesa Vabbè lei Questa Ok Mizzega che roba Capo Cioè Mi servono 10 shop buoni Qua devo rollarmi Mi sa Reviver seed Lo do A Venuser Se muore Venuser Vuol dire che Bene non stia messi Ratiquette Ok Merda Oggi si festeggia Cazzo Zio Pop Wrong Il punto è cosa faccio Qui Il punto è che lo shot Se gli tiro Non voglio usare Ovviamente la master Su di lui Forse Goldengo Con Con Coso X Cadrill Magari Con Metal Claw Bella Quaraz Ma cosa sta Succedendo Esattamente Oggi Cioè Disgustoso Va bene Piccare il sorso D'obbligo Perché però Non ho capito il motivo Ci ha raccolta Cioè C'è uno shiny Di livello 1 Però non è uno Di quelli giga rari Cioè Io ho l'illigant Blue squadra Che aumenta La luck di 2 Per dire Meglio Servono dei rossi Thunderbolt Cazzo No Ma Devo stare No Appeggiamo X-Fashion Raccolta Raccolta Sarà Ben Naz Ovviamente Che merda Va bene Gli droppiamo L'attacco Ora Samau Cosa fa Quella mossa Ila bayla Ila Mossa Ila Cantam 4 lam 3 lam Mi droppo L'attacco Un attimo Può essere Cioè Può aver senso Può aver senso Cioè Sto venendo Sarquaccio 5 sash 4 leftovers Non lo so Oh Che culo Ha finito gli item Lui direi Che va al bar Ok Buono Fatica Sì sì Puoi livellare Lo stesso pokemon A ruota Qua Però deve essere Al cap Altrimenti Non ha senso Ovviamente Farla Come play A me servirebbero Altre master Ball bro Cioè Vedi Qua c'è La rare candy La posso anche dare Se vuoi Che cazzo Ne so Goldengo Però Scorso che tanto Raggiunge il cup Tanto lì Non è che ci fossi Di meglio Che brutto Sto pokemon Sembra Porco di Waze Preferisci Quello lì In un bosco O un uomo Lo so Che colera Arcandy Va oltre il cup Lo so Però appunto In quel caso lì Non aveva senso Perché non era Il cup Goldengo Ancora Lo so che va Oltre il cup Con le caramelle Che bello Fighissimo Inutile ma figo Tanto le fusioni Non c'hai Tipo Se ora Il dollaro Arcandy A Goldengo Lui va di più Di quel livello No Tranquillo Tranquillo bro Se renzapi Troppiamo un minimo L'attacco Tanto Va bene We belong Together No 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 Porco Giuda Sto critto Merda Che danno è Frate Gli droppo Un po' L'attacco Questo Perché è un po' Agitato Lo vedo Ha Stava più 3 D'attacco Lui Oh che palle Sto crit Che rompicazzo Madonna Ah è rimasto vivo Uno Muore di semi Vero No Cazzo che rompi Palle Sti boss Qui sono Son pesi Big nugget O rolliamo Big nugget Dai Un milione Siamo i più ricchi Del cimitero Ma vorrei fare Sì Vorrei fare La L'achievement Del milione Dei 100 milioni Che c'è un achievement Da sbloccare A sto punto Lo faccio Devo trovare Quello degli Shining Per rollare Più shiny In shop Vero Buono 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 Un po' Di fresca Matta Voi quanti shiny Avete per ora Chat Per curiosità Ve lo chiedo Prendo Due masterball Le piglio No di nuovo due Potrei rollare Per il robo Dei shining Però Prima ne avevo quattro Ora ne avevo solo una Quindi la Mi serve Perché se ci sono Boss che non mi fanno Fuggire Come prima Senza quello Vado al barbro Cioè Fortuna Che ieri ho preso Le masterball Quelle volte in più Che dicevo di prendere Altrimenti Latios e Latias Col cazzo che li avevo Ora Sarei già morto E non li avrei neanche Catturati Questa è una mossa Non ha mossa Il nuts Farmo Cioè farmo 6 milioni Di make it rain Qua E il nuts Sta roba È comodissima Oh mettetevi tranquilli Comodi seduti Cioè questo è Veramente totale Oh se non c'ha mossa Voglio qua Quanti milioni Farmo Più di 5 6 In un solo fight Qua ne faccio Eh ragazzi Da sfruttare Un bel boss Normale Che non c'ha mossa Il nuts Mica come Stoutland Che ti fa crancia Manetta Tra poco ci si schiude L'uovo epico Ma ma Alex Intanto leggo la chat Almeno lo sfrutto Per leggere la chat Sto momento Con velocità 5 In realtà Cioè non ha già più Le berry Quelle là che Che oltretutto Farebbero Locura No Ne ha già finite Quelle Quindi in realtà Muore presto poi Quanto faccio Più o meno Di 3 milioni Secondo voi Qua Con me Di più Devi fare 5 milioni Adesso fa ripresa Guarda che A me sta bene Cioè Beccarlo un pokemon Così che ti fa Farmare buona All'infinito Lo sfrutto Purtroppo muore 5 milioni 8 Beh No secondo me Ti assomiglia a te Quando ti guardi Dello specchio Felatime Più probabile Rockball Mi manca ancora Sta coglione Mi manca ancora Stare incoglionita La catturo Che cazzo Me ne frega Fre Electroweb Special Attex Special Ma Shizor È raro È raro Shizor Non so Non ho mai beccato Va bene Ma lo catturo Se rimane poco Allora sei rincoglionito Cioè L'altro resiste Grazie Brother Per l'anno Grazie Andre Per l'anno Vabbè Non è un leggendario Quel cazzo Che è Quindi Da steccare Lo stecco Farma Farma Che palle Sta roba Qual bar Ora Buono Un milione di fresca Re roll Egg voucher Da uno Lo prendiamo Sì dai Meglio che rollare A random Egg voucher Lo prendi sempre Secondo me Lurartis No Sì Mettiamo in Venusaur Egg Gaccia Machina Shiny No Uovo da uno Leggendario da uno Con l'hack di oggi Può anche succedere No Però tra poco Ci si schiude l'epico Attenzione Merda Oggi Latios Latias Di fila Abbiamo fatto Calirex Upa E Nel giro Di sette run Calirex Upa Latios Latias Lo shiny Dopo E prima C'era il coso C'era L'altro che non mi ricordo Il nome Che qualcuno Prima l'ha scritto Forse Naga Nadel Ok Sì Oggi Veramente Servono un paio Di leggendari In più Magari shiny Sarei anche contento Max Survive Lo prendo Mi serve rollare Il coso Dei shiny In più Però Cos'è sta roba È raro Non ho mai beccato Sta roba Sembra il classico Bidone normale Più un altro Typing Però Non l'ho mai beccato Quindi chiedo La chat C'è un bidone Ok A posto Merda Oggi Di tutte Abbiamo solo due Ma se ne servirà Un'altra Rerollo Dai Un paio di volte Qua Xp Charm Penso sia da prendere Sempre Tipo Usivi scanner On parasex Switch Abbiamo Abbiamo oltretutto L'obiettivo a 100 milioni Da fare Il goal Cioè Ti dà Non va Un ticket Per i 100 milioni Raggiunti Voglio provare a fare Già che ci sono Oltre che a trovare Il secondo coso Dei shiny Big nugget Piglia Orsa Luna Linkerock No Goldengo No 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 Ho sbagliato Cazzo Volevo fare L'altra mossa Erba Ovviamente Va bene Va bene Eh sì Shiny Con raccolta Il nuts Però c'è l'illigan C'è il livello 2 Mi serve ancora Un livello rosso Ho trovato Latios E Latias di fila Merda Non ci credo ancora Infatti bisogna fare Assolutamente Una clip Lì Raccolta Ti rubai Temo a caso Reviver seed Ma Reviver seed Accumulabile Non penso Vero Quindi Ce n'ha già uno Coso Venus Auro Golden punch C'è il nuts Energy ball Ok Buono Errol Vale non voglio usare i soldi qui Voglio raggiungere i 100 milioni Ti danno il voucher Porca puttana Proprio lui Bro Master ball La terza 3 master ball Ok Dopo se trovo un'altra rarità del genere Rollo per Per lo shiny charm Per il secondo Però la master ball Qua la prendo 3 master ball Mi servono Perché prima ne avevo 4 E se non ne avessi avuto 4 Sarei già morto Staran Perché mi stavano svipando la squadra Latios e Latias Cioè Almeno con 3 master ball Sto tranquillo Più tranquillo Ah è vero che qua resistono Le multi hit Vabbè va bene Fermiamo un po' di fresca Conveniva lo shiny Ma secondo me no Sono buone entrambe Lo shiny e la master ball Sono le due cose Proprio fondamentali Allora master ball Sono utili Anche per non morire Un po' di fresca Stiamo vicini al voucher Dei 100 milioni Attenti eh Re roll Ultra ball Le prendo Ma ne ho già Vogliamoci un po' di fresca Dai Rare candy Car boss Non rollo ancora Se non ci sono item rari No Non conviene lo shiny Se poi non hai le master ball Che tanto Se ti trovi un boss E non hai la master ball E ti ammazza Come il rapido Ascire l'altro Vabbè vediamo Waze Adesso magari ce la facciamo Sì certo Maxlure Egg voucher Prendo Prendo l'egg voucher Capi L'egg voucher Ci sta un ovetto Magari rollo Un leggendario Che cazzo è Sta robaccia È orrendo Oltretutto Sto pokemon No Non gli posso Neanche fare La Agaccia Oh ma ve lo voglio Ti dare un ovetto Leggendario Zio peppers Già l'ho catturato Quello bro Perché cattura Già ce l'ho Questo bro Vedi che c'è la bolla A fianco Vuol dire che l'ho Già preso Merda Non gli levo nulla Oh questa è una Rottura di cazzo Mi sa tanto Se te lo dico Da battere Che due coglioni C'è anche questo qua Devo provare a fuggire Vero Ok Mi stecca la squadra Quello Ecco Appena si va Fa tutto Perché il venosar Non gli può fare Gli seed Abbiamo il voucher Tra poco Alla fight 850 Merda Merda Poi c'era bagliata La fresca Dopo però Golden Punch Ne ho due Su Goldengo E uno Su Venusaur Mi dovrebbe dare Un voucher Ma hanno detto A 100 milioni Me lo vogliono far sudare C'era C'era Nugget Per farlo Però C'era Big Nugget Ma questa la prendo Forte No Energy Ball Ok Ok Oh Uovo Ah no Comune Bannery Che si evolve Merda Che vice Bro È disgustosamente Opista Roba Ma tra quanto Arriva Ma tra quanto Arriva L'uovo epico Dovrebbe arrivare Vero Ora Tipo Figa Sti item Porco Dio C'è Le prendo Le rog Stai scendendo Lo faccio Ora il milione Fight dopo questo Lo faccio Endured dal token Di merda Bulldozo Va bene Sì vabbè Cento milioni Si intende Dai Su Ok Non so se ora Eh Sto fa un po' Non so quanto Ma ogni volta Che vai avanti Di round Più ti dà Cioè È basato su qualcosa Ma non c'è il voucher Mi hanno detto Che ti davano una cosa Non ti danno il ticket Forse è al miliardo Dobbiamo farmare il miliardo No way Dai Ah il miliardo Ok Vabbè Magari si fa E sta run Chi lo sa Che merda Che merda Sta roba Ma boh Cioè Non cazzo Do qui Cioè Fa cagare tutto Bro Re roll Voglio rollare Per lo shiny Costa 6 milioni Però Re rollare Qua Vabbè che Cioè Vabbè che ci sta a usarli Ma a parte tutto Re roll Se trovo una master ball La piglio Vabbè la piglio Questa Non rollo 12 Prendo la quarta master ball Che tanto va bene No Al prossimo Rollo Rollo meglio Per il coso Ovviamente Per Merda Feature site Qua fa Merda Questo qua Mi sa che è da fuggire Bro Sti cazzo Di pokemon Psico Di merda Rompono i coglioni No Somebody told me Quando conviene rollare Beh dipende Lo devi scegliere tu Bro Quando ritieni Se è opportuno Te Io per dire Ho trovato L'item Che mi blocca Le rarità Quindi io Re rollo Per Quando trovo Un item Di rarità Master ball Per trovare Delle master ball Moneo 4 Quindi mi serve Trovare il secondo Di questo Che è quello Degli shiny Idealmente Che ti aumenta La possibilità Di trovare shiny A manetta Mi serve trovare Il secondo Di quello Relic gold Sono 3 milioni 8 Li prenderei Tanto poi li usiamo Per rollare Dopo C'è di nuovo 100 milioni Ok Il punto è che Vedi che costa Puoi rollare Anche lì costava Prima già 6-7 milioni Con quella Rarità là Dopo aver fatto Qualche roll Quindi Minchia Egg voucher Lo prendo Ma se gli egg voucher Li prendo Bro Le uova Le prendo Tanto Mi sta bene Anzi La schiudo ora La schiudo Aspetta La schiudo ora La schiudo Grazie dei follow Nuovi Ragazzi Apprezzo Apprezzo I nuovi follow Un raro Va bene Un raro Make it rain Allo sire Tra poco Abbiamo altre 5 uova 8-50 Rollerei un minimo Qui Shadow Cloud è buono Ma no Mi ridà la fresca Ok Voglio prendere Big Questo cosa Faceva La Sutle Bella E buona Da dare Perché Perché Se tu Un pokemon Quando uccide Gli altri Ti da più Caramelle No Giusto Ditemi se sbaglio Capi Quindi Non è diventare I boss Sono tosti Eh Cioè Vabbè Questi qua In realtà Li doggio Se però Becco Quell'erba Che non soffre I semi Inaccollabile Zio Paperong Guardato Da noia Quelle erba Quelle erba Speciali Rompono Il cazzo Perché comunque Con strength Up Se gli droppo L'attacco Li doggio I fisici Intendo Tipo Questo si becca Una sludge Bombiante Secondo me Sì anche Gli psico È poco Efficace Però Un minimo Comunque Gli farà Dai Lo facciamo Sfogare Tanto Voglio dire C'ho anche Il revival seed Su questo Mi sa Ancora attivo Vero Ma non avevo Il revival seed L'ha già usato No ce l'ha ancora Quindi se questo Non dobbiamo rischiarlo Sto venosor Che non voglio Che si attivi Quello C'abbiamo Quattro avanzi E cinque focus Non lo so Rick Non mi sembra male Come cosa Quante ne ha ancora Di Ah non c'è Ah vabbè No però Sludge Bomb Come non detto Mi ha crittato E l'ho dovuto usare Porco dio Ma tu ti rendi Conta di che Sfiga Perché mi ha crittato Cioè Devo stare zitto Mi servono item Più rari Ragazzi Qui però Palle sta roba Snugget Ora Boh Cioè Qual è il discorso Iron Threads Io ce l'ho Quindi Questo è da batter Per forza Lo posso catturare Se già ce l'ho Porco dio Non so se lo puoi catturare Perché mi hanno detto Che comunque Non puoi In In sta In sta roba qui Nella Nella Endless Questi quali devi aver schiusi Dall'uovo Se li vuoi catturare Questi Cosi Eh raga Ci vuole un altro Cario Goldengo E Venus Ormai Per com'è andata La run C'ho le master ball Cerco di arrivare Il più avanti possibile Come va Va Insomma Non è che È la prima volta Che gioco la Endless Quindi Non si può In caso si può Anche provare a fuggire Eh Nel senso Strength up Non lo so Ce l'ha L'aveva imparata Mi pare Boh Non lo so A quanto sa D'attacco Pari Come si fa A dinamaxare Sì Nel Nel discord Trovate il link A tutto C'è anche la sezione Pokerog Nel mio discord Guardate un po' C'è la sezione Pokerog Se volete Ci sono sempre Anche le persone In col che giocano C'è la sezione Per Playlist stream Qua trovi le playlist Della stream Qua c'è la gente In col a giocare Vi arriva la notifica Di quando sono in live Su twitch Di quando sono in live Su youtube Cioè di quando esce Il video su youtube Che poco fa è uscito Il game Il game di murlocolms Bellissimo Di bc Dell'altro giorno E così via E qua c'è la roba Di pokerog Sotto le playlist Quindi qua trovi tutto Guarda che culo Questo porco dio Ma dai Vergognosa sta roba Ma cosa cazzo Ho appena visto Ma veramente Ma sta scherzando Sto tipo Ma come ha fatto Ma mi spieghi Come ha fatto Poi trovi Waze Selvati Che fai sta faccia Ma che cazzo Di culo È vergognosa Sta roba Che cazzo Di culo Porco dio Dopo vado a vedere Chi è Zio Paperong Uno che ha giocato Infinito Semplicemente Cioè c'è anche la gente Che sta nerdando Infinito Quindi nel senso È almeno due D'attacco Ora secondo me Energy ball Però lui è più veloce Di me Forse No vabbè Fatica Però E queste sono altre Uova per noi Ok Molto bene Perché stamattina Noi non stiamo scherzando A livello di luck Se posso Allora E gaccia Cinque Ovetti Cinque ovetti Un raro Solo Tra poco ci si schiude Come fa a essere più veloce Oh madre Che due palle Sta roba Vabbè Insomma Dumarone Non voglio che mi muoia Già Mi sa che lo devo switchare Sto coglione Vai Potevo mettere X Cadere il force Però Allora Energy ball Dai Buono Ci sono due Nella leaderboard Nella leaderboard Che sistemeranno Per domani Quelli lì sicuramente Li chiccano Ma l'epico Quante battaglie sono Ragazzi l'epico Che non mi ricordo Wow Buono Una best tv Quante battaglie Sono l'epico Rockball Potrei lockare E rerollare Magari aumenta Dai Zio cane Però Ultimo reroll Vabbè Questa è rotta Menos erne C'è il massimo Lo do Goldengo A 50 Allora è a breve Dovrebbe essere a breve Rompi Cazzo Con gli avanzi Recupero Vado full vite Zio paperanzi Buono Ah è vero C'ha il coso Sarei che questo Era un picazzo Ma ok no È vero Con anche l'item Che fa flinciare Oltretutto Buono Grazie Ma che bel giocatore Frane Dei follow Grazie Frane che non È frene Nugget 400.000 Di fresca La prendo Dai No Ok Mi servirebbe Un altro Un altro Di quelli Che aumenta La rarità Dei shiny Possibilmente Ma Reroll Super Ex Da prendere Devo prendere Questo Over l'uovo Perché comincio a Non capparmi Pi livelli Quindi poi Dopo rimango troppo Indietro Ok Play rough Fa danno in base Al mio attacco Guarda Ti do una brutta Notizia Non è alto Riduciamo un minimo L'attacco Anche lui Energy ball È un persian Di merda Zio Paperong Se volete C'è il gruppo Telegram Aperto a tutti Punto Esclamativo Telegram Vi ricordo Chat Se volete Entrare Capi Buono Questo Va al bar Tanto Fa danni In base Come fa Ma Una stronzata Questa Su Chrome Perché non si cura Subito Dalla Lamberri Ma non ho Lamberri Non è possibile Che non abbia Lamberri Vero No Ce ne ha Sei Non capivo Vabbè X special Buono X special Lo punni Boss No No Io farei Uno strength Up Prima qua Dei semi Non si sa Mai cosa fa Lui Esatto Ma Mentre in alto Vanno No Non vanno Vero Ok Allora Giusto per capire Vabbè E Lizzidora Sto beccando Shiny manetta Sto beccando Robbe a manetta Qua Rotture di coglioni A manetta Boss a manetta Mi servono Leggendari Boh Uso uno strength A caso Tanto Ok Gli fa male Energy ball Questo Un po' Che rottura Di cazzo Il fatto Che faccia Bounce Che lo hit Una volta Si una no Quanto mi do Quanto gli do Di golden punch Quanto mi da Non troppo Almeno due D'attacco Sta still Morirà O non morirà Chi lo sa Ci tiene a rompere i coglioni Questo Crit ovviamente Ci mancherebbe altro Ok Ok Il punto è che Goldengo I boss Non li fa Cioè Goldengo Serve a farmare Ma per i box Solo Oh Benì Molto bene Molto bene Perché i paradox Sono i migliori Da prendere Dalle uova epiche E si gode Mi sa che è pure Forte lui Mi sa che è pure Forte lui Oltretutto E i paradox Sono i nuts Se non erro Ha pure grandi V Oltretutto I paradox Sono i nuts La roba più forte Perché non li puoi Cazzo Sono gli unici Che non puoi catturare Questo è il paradox Di È fortissimo È fortissimo Sta roba Un 570 BST Shed the tail Non so cosa faccia Molto bene Cazzo Molto bene Cazzo Non penso No non penso Proprio E faccia cagare Quello Spunzo Mi sa che fai cagare Tu con la tua faccia Di merda Sai Quello si È raro Non l'ho mai beccata Sta roba È per caso È raro Sto piccione Buono Buono l'epico Cazzo Ma non lo so Ci sono alcuni pokemon Che non sembra rari Però non li ho mai beccati Dico boh Magari È uno che Non forte Ma raro Dico che magari Ha una percentuale più bassa Lo sfrutto per catturarla Bold mint Che cazzo Che cazzo C'è Più def Meno attacco Non è male Su venosor È normale Però sono Mosse speciale È forte Da dare qua Eccone un altro Merda Latio Selatias Che goduri È disumana Non catturi pokemon Perché Ne catturo Solo alcuni Bro Da venusor Ah da 5 livelli Ora l'erar candy Abbiamo catturato Shiny prima Raticate Make it rain Vai From the Dun Wide lens È forte Però Neanche così tanto King's rock È quella che fa Flinciare Vero È forte Da dare venusor Questa Voldengo Già ne ha una Voldengo Già la una Ma quante staccano Di quelle In caso Carbodor Lo potrei anche Provare a catturare Non ce l'ho Venusor è lento Quando mai è lento È velocissimo Quel venusor Reroll 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 Quasi così Loccando le rarities Magari una si aumenta Di quelle O magari no Anzi diamo un altro Carbos A venusor Il dubbio No Sì Lit seed Ho missato Disumano Che schifo Ok Li dobbiamo Troppare l'attacco A questa Ce la facciamo A doggiarla No Ah è il boss Cazzo È il boss È il boss Questo Oltretutto Ci servono Ragazzi Quelli dei shiny Cioè Li dobbiamo Per forza Rollare Adesso Wake me up Inside Wake me my name Gangshot No è fisica No se non erro Gangshot è fisica Che speciale Sadit La musica Non tengo questa Ora ragazzi Non la cambio Cioè Pare che ci sono Le più belle canzoni Ehm Non gli farà Troppo Perché Poco efficace Però L'uomo evico Già L'hai scuso Si ho trovato Un paradox Bro Ti droppo L'attacco Di nuovo Potrei anche Mettere goldengo In O no Beh goldengo In Qua A farmare Un po' Di fresca A far Innervosire Stomac La mappa È buona Come item Si è fortissima Nella Nella regular È fortissima Non la puoi rollare Nella endless Ma Nella regular Che la puoi rollare È fortissima Non c'è mosse Comunque È andata Astroworld Vedi un po' Che la chiedevi Riproduzione casuale C'è la Insta playlist Buoni Buoni V Ma Ma la macchina Dei shiny Li date Dei shiny No zio cane Però Merda Che V Ci serve Il coso Dei shiny Ragazzi Qua Ne dobbiamo Avere quattro Di quelli Vediamo Vediamo Easy cold It is icy cold Make it rain Good Good gucci Gucciato Nutty nuts Clamorosong Big nugget La prendereste? Ora rolliamo Senza loccare Le rarities Big nugget Quanto d'acqua Ora È un milione Capiglio Dai La uso Per rollare Dopo Quando trovo Tiro questo Un turno Cos'è che ha fatto? Ridicolo Ok Non è che Vabbè Non sta neanche a spiegare Che i rare roll Ti costano 6-10 milioni Quando trovi l'item Raro Se vuoi Poi dopo rollare Quello che ti serve Ma si può usare Nightshade? Come funziona? Lo sbocco Prendo rare candy Perché faccio Make it rain Che mi dà le monete Però Per quello fa Oh Gallad Palle Questi sono Noiosi da beccare Sono pallosi Da beccare Questi Tre anche Provare la fuga Però se poi Non mi fa fuggire È una palla Bro No Bro Missato Merda Cazzo Che palla Ok La vaca al mind Aria lei Boh vabbè Ok Li doggio Dai A Gallad Quasi quasi Spara Un energy ball Anzi Voglio uccidere Medici E poi far Make it rain Ok Eh si ragazzi È quello da fare Ci serve La fresca Per quando Rolliamo Un item Di rarità Masterball Qual è la roba La roba rotta A parte che lo potrei Anche provare a prendere Questo Mi manca Gallada Ancora Lo provo? Non penso sia così Comune Beccarlo Ok Lo prendo Me lo levo Dai coglioni E via Rolla No Non trovo Un item Raro Manca piangere Però Che sfiga Di ocane PP max Voglio Loccare E rerollare Ma ci Ci può stare Qua rerolla Un paio Di Un paio Buona Quella dopo Mi serve Su Eternatus Averlo Che faccia Tutto No Sì Metto Xcaderil Mi sa Vero Così faccio Rockslide Più Make it rain Se resistono Ma davvero Ma perché Non capisco Come faccio A dormire Cazzo Cioè Non capisco Perché non si attivi Subito La Eh vabbè Non si attiva Subito La La Lamberri Ma si attiva Al fine del turno Non ha Troppo Cioè Non ha senso Sta roba Eh boh Oddio Se sei underleveled Non lo so Però non mi ricordo All'inizio Sicuramente Trovare Quello che ti Livella L'esperienza Subito È importante Perché Altrimenti Si rimani Underleveled Ma quello Anche nella Classic Se non lo Se non lo Trovi Un milione Va bene Ma che poi Mi dà più di un milione Infatti non capisco Bene come funzioni Questo lo dovrei Steccare con due Energy Ball E lo tiro giù Tre Energy Ball Quel che Energy Ball La manetta Shottato da full vita Praticamente Hyper Beam Damn Mossa De merda Però in realtà Posso fare Un Lock Rarities Reroll Non capisco Perché mi dà più soldi Di quelle Candy C'era il Nuts Così non uso mai Candy Ah no 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 Non è che non uso mai Candy È che dopo le Candy Danno più livelli Ok lo prendo Comunque È buono È uno degli item Premium Della run Sì sì le Mega Evoluzioni Già ci sono tutte Bro Yes Grazie dei follow Nuovi A capi Apparezzo Magnete O Big Nugget Posso anche pullare Un Reroll È forte questa Vogliamo Rerollare Again È forte Kings and Rock Su Venus Ora Mi fa flinciare Staccano Fino a quante Staccano Per curiosità Sì Is life La 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 Ok Ok Buono Molto bene 420k Di fresca Unique special Lo prenderei qua Torna utile poi Blastoise Damn Gli starter Sarebbero sempre Da catturare Se resiste a uno Lo prendo Altrimenti no Cazzi suoi Ma un bel item Di rarità Masterball Zio cane Ci serve Quello dei Cos'è questo Quagsire Esatto Ci servirebbe Quello dei Degli shiny Cazzo No Non switch Faccio Un energy Bola Manetta E via C'è il boss Le caramelle Zwalot No No Lit seed Va bene Dai Zwalot Lo do Gio easy Un attimo La rottura Di cazzo Di Di ciullari Gli item Ma Ok Tra poco Ci si schiudono Le altre uova Oltretutto Tra poco Stiamo Al Vediamo Federico Dici che Dici che forse Troppo rotto Non lo so Delle cose Le metteranno Già tutta la roba Che c'è Disumana Mettere altro Ora lo faranno Sicuramente Con calma Nel senso Mi serve Mi serve Contrario Contrario Un cin 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 cinno Tipo Ho catturato Ho catturato Prima anche un altro Un linun No Non un linun Cos'ho catturato Prima shiny Raticate Forse era Sì raticate Mi pare Va bene Quindi ho cpiù Di lacco Ora Troppo Non è innazzo La lacca cosa serve A trovare item buoni Nello shop No Che vantaggio Danno i shiny Danno la lacca Nello shop Adesso ti faccio vedere Fammi un attimo Far Ma perché Misso Ecco cosa serviva Le lenti Di prima Di merda Perché ora C'hanno la roba Che ti fa Missare le mosse C'hanno il token Per quello Le lenti Sono straforti E stra rare Ok Torna ora La lacca è questa Vedi L'hc Quella aumenta Per gli shiny Che hai squadra E serve a rollare Item più rari Nello shop Più l'hc hai alta Più item rari Puoi rollare Nello shop In breve Detta proprio In breve 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 Questi sono troppo forti Per non darli Ma è raro questo Ok Sembra raro Vederlo così Boh Ho un bidone Forse un bidone Lo so Forse è speciale Infatti Immaginavo Sa che da fuggire Da questo È una palla Sto tipo Però da buttare giù O no Boh Non lo so Dipende Ma forse no Dai Si curerà lui Però Va bene Non mi leva nulla Ok No un bidone È raro È solo che Solo a vita rossa Lo potevo prendere Bro Secondo me Cioè se lo trovo Non boss Lo piglio Altrimenti Amen Oggi abbiamo catturato La Cioè veramente Se ci ripenso Ma mi viene Niente male Cos'è sta roba Oh Rockball In che senso Fede Eh fuck Sarebbero forse Da prendere Rockball Io però un paio Di ererolli Proverei Focus Band Questa le dai Ne ha già il massimo Venus Era la Doggoldengo Che sono i due Carry Sembra stupido Non darle L'uovo epico Abbiamo trovato Un paradox Non mi viene il nome In chat Sicuramente Se lo ricorda meglio E poi Questo in realtà Mi fa danno Ora Perché mi fa shadow ball Mi leva un fracco Va bene Anche troppo Farmare un po' Di fresca Io qui Tre anche Provare a catturarlo Mi manca ancora Il Dusk Noir No vabbè Faccio make it rain Se rimane A uno Dopo lo provo Quasi quasi Va bene Il flinch Lo provo Con l'ultra Però non mi va Di usare la Rogue Qua Mi sa che uso la Rogue Non voglio morire E usare item Dopo quindi A best No Ha più special attack La natura Oltretutto Minchia Fortissimo Più special attack Ma in attacco Mi pare Il nuts Ok Nugget dai 400k di fresca Is ok Ha un stone È raro Non penso Vero Switch pokemon No dai Faccio uno Shadow ball È vero che Sono giga Droppato Però Quanto è forte Questo che Allora Lui Fa quella mossa Li Potrei anche Mettere Venusa Rin Così almeno Mi prendo Infinito Danno Ok E gli faccio Slash bomb Era meglio Far forse Ok no Grazie dei follow Ragazzi Gentilessimi Broskis HP up È rotto Madonna HP up È uno degli item Più rotti Che ci sia Infatti Lo do a Venus Questo è forte Cazzo Cioè va Infinito Più di vita Era 7700 Ora Se lo vedi Sarà tipo 8000 Passa Umbreon È raro Umbreon Mi sa Ah minchia È rotto Sì Frank 8100 Di vita Cos'è Che mossa Mi ha fatto Non ho visto È da prendere Umbreon Però Cioè lui ti sblocca Eevee Poi per almeno Una cattura in più E soprattutto Penso sia raro Bella Arista Grazie dei 6 Col tier 1 Lo mando Gli droppo Un po' Di stats È a meno 6 Già questo Ah perché C'ha simple Cazzo Troppiamo Flinch È vero che C'ho i cosi Dei flinch Sì ma Raggiungerla 5000 È impossibile Praticamente Probabilmente Verosimilmente Perderemo A 1000 Forse Vediamo Dopo voglio Far vari Running Classic Che ho già Vari idee O magari Robbe con Altri streamer Vediamo Adesso Che cazzo È sta roba Sta comunque A meno 4 D'attacco Ma quella Mossa là È speciale Penso Vero Che cazzo Mi shotta Lui È più 6 Di special Prova a Fuggire Ma è fisico È speciale Quella mossa Di merda Quella lì Che lui Mi sta facendo È fisico O speciale Perché non capisco Patti Quella là Beh Perché certe volte Mi togli un sacco Certe volte E meno Non capisco Non ha troppo Senso logico È vero Qua si è attivato Overgrowth Ora godo Di Venus Che abilità Che ho Raro Snizzle KV Madonna Assurde Queste Forte Cazzo OP OP Is X special Ok Qua HP App ha fatto La differenza Hai visto È forte HP App Will we switch Pokemon Dio bono Si fa cagare X cadere l'ora Che non è livellato Bene Bidone È un notevole Bidone Purtroppo Quei pokemon Lì ora Fanno tutti Cagare Perché sono Troppo Underlevel Quelli là Ok Ma entrambe le cose Ma come le fai a fare C'è a ridurre il costo Cioè sono in automatico Sbloccare la passiva Eccetera O Merda Eh Questa è una palla Solo che C'ho solo due Livellati bene Io qua Eh Quello è il discorso Ma anche Tink Ha toccato Livellato Ok Perché comunque Quello là Dopo rubava Le cose Con Inferno Semitta È un grosso Problema Penso Forse è da fuggire A questo Da provare Il run Com'è da provare Il run A questo Perché È una rottura Di cazzo Sto tipo Brother Cioè Eh È vero che mi curo Infinito Ogni hit Io Però dopo Quando lui va A più 6 Mi shotta Tutta la squadra Devo usare La master In caso Ok Sablai boss No No Questo lo dovremmo Doggiare Si spera Va bene Dai Questo Mi ha anche Crittato Ma Gli droppo L'attacco Direi a questo Ma Ha l'abilità Che non Usa gli item Wait What Perché Non mi sto Svegliando Il Lamberri Ce l'ho Mi sa che Ha un abilità Che non mi fa Svegliare Perché Più andando avanti Diventa Complesso Che domande Non ho capito Perché Non mi usa Le berri Ma perché Lui C'ha Nerve G Venus Race 2 Nerve Mi sa Vero Nerve Penso Ok Buono Revive No Non penso C'è L'ex Cadrile Un bidone Tanto Exp Balance È È Forte Che Culo Rayquazzei Vai Oggi Ripeto Non mi posso Lamentare Make It Rain Oh Madre Eh Secondo me Non è da rollare Qua devo prendere La roba di xp C'è Non Non posso Qui Samurot Forse lo doggio Quelli di xp Vanno sempre presi Altrimenti Sei sempre under level Dopo Palle Sta roba Misso Le mosse Mi servono Le lenti Bro Ma la giga Io Su venosero Sia l'item Della giga Sia della mega Posso attivarle Disattevarle Entrambe Quando voglio Ti dura Infinito Quelle due lì Però Li devi rollare Ovviamente Troppo un po' L'attacco Metti che Dopo faccia C'è La cosa migliore Probabilmente Farla arrivare A tipo Tre tacche Con semplicemente E dopo Lo shot Di Ti durano Infinito Quindi Quelle Capito Comunque Tutte le ram più belle Eccetera Lo sfrutto Fare sta roba Le ricarichiamo su youtube Di cui oggi esce il primo episodio Della endless Alla sera Se volete recuperarle E supportare anche youtube Fa piacere Bella volta Grande bro Come stai? Da prendere al posto Di Xcadril Eh ma Non No way Che lo riscoprere Cioè non uso la master Per lui Bro la master Le uso per i leggendari Stop Ok 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 No 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 Make it rain Ok Buono Al bar Questo Ok PP up O rolliamo No io rollerei PP up Inutile Nugget O rolliamo again Nugget dai Cioè forse la dovrei spendere Sta fresco Però devo trovare Uno di rarità Più rara Per rollare E trovare La roba che mi serve Secondo me Cazzo è sta roba Lo steccherei Che palle Ma mi devo Dare il revive A quel robo Perché l'ha shottato Che sono le focus band Apposta Dio cane Devo spendere Un milione e tre Per sto stupido Che è morto In sto modo Disgustoso Wildlands È forte La devo dare Perché ora C'hanno anche il token Che mi diminiscono La cura Sì delle mosse Quindi La rottura di cazzo Uh No 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 Questi sono perfetti Guarda Megatrain È perfetta Qua Molto bene Gli fotto anche Le berry Bro Faccio un sacco Di fresca La manetta Proprio Comunque Idealmente Servirebbe Trovare Eh sì Mi servirebbe Uno shine in più E dar via Uno dei bidoni Che c'è In squadra Che tanto ormai I carry Sono sti due Quello è il discorso Buono Megatrain Qua Avete trovato Degli shiny Che culoni Che siete Capi Bella Alvis Reroll Secondo me Non sto trovando Mi serve Rockball Lock Rarities Reroll O le prendo Ne ho già 20 Shell Bella Il Nuts Vero Eh sì È forte Shell Bella Da dare A Venusaur Probabilmente Dovrei dare Anche altri Item A Goldengo Però Oh 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 Shiny Blue Shiny Blue Shiny Blue Shiny Blue Eh Ma è raro Questo Non l'ho mai Beccato È raro Questo È raro Solo che Solo che io vorrei fare La Davvero non è raro Perché non l'ho mai Io non vorrei usare la master Io non vorrei usare la master Qui però Vorrei andare di rogue Merda Guarda che V Ditemi che è anche fisico Merda è anche fisico Cioè Questo è perfetto bro Natura perfetta I V Perfette Fisico Cioè Non è Vedi C'è in ciabattoni Cazzo Questo mi serve In squadra Al posto di chilometro Di Rotom O di Excadrill Ah non è fisico Eh vabbè Amen Però Lo devo mettere in squadra Rotom è un cesso Solo che perdo gli item Di Rotom Eh Boh Eh Mi serve trovare il DNA Coso qua C'è sicuri che Rotom Sia peggio di Excadrill Ragazzi Perché l'Excadrill È anche più livellato È anche meno livellato Excambidone oramai No a me servirebbe fondere i due shiny qua Tecnicamente tu qua vuoi scendere Vuoi fondere i due shiny Perché dopo si somma la luck dei due shiny Tante da togliere anche Rotom Oh Luck B Ora abbiamo Ole Questa la svolta capo Questa la svolta capo Cos'è sta roba? È un mandibus? No È un okidogi? Ma è raro Non mi è beccata sta roba È un semileggendario È leggendario Stiamo scolando Masterball Per me su questo è worth la masterball Ma quant'è la rarità Quindi in percentuale? È bellissima la run Comunque a sto punto bro Ci diventa troppo figo giocare A sto punto della run qua È bellissimo Ma cos'è? La rarità tipo di un reggi? O è meno raro di un reggi O ste robe qui? No Il punto è che con così tante robe Facciamo una fatica cagna a catturarlo Però potrei provare la rogoball Non so se è worth però Io tirerei la master qua No Ora con l'HB dovrei Spesso rollare roba migliore Fresca? Ma sì dai È vero Spostare gli item di Rotten Dovesse arrivare un nuovo leggendario Ha senso come player Eh appunto Io infatti per quello Io prima premevo sul prendere le masterball Perché questi Ti shotano la squadra Se li trovi i boss bro E la rogoball Gliela puoi lanciare solo se loro Se loro sono A wide A wide lens Oltretutto è quella che aumenta la cura Sì Perché ce l'aveva Rotom? Ah perché per idropompa In early game No non li passa in automatico Sai penso È vero Su Glimore Ne avrà Minchia Vabbè Gliele potrei anche lasciare Tanto Cioè Gli altri gli hanno Sti item Potrei dare due lama Transfer Ah però è buona Dargli la leppa Quella Se andiamo contro Coso Almeno dopo l'abbiamo Già fatta Sta roba Tanto Quelli che devo tenere Sono i primi tre Per le lotte Tinkato Serve contro Coso Ok Reroll Che sfiga Prendo la fresca Prendo la fresca Quasi quasi Leaks defende No 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 Goldengo No No Non è bellissimo Però sto spot C'è C'era Stardy Forse Quello No Ok Eh si Ho trovato un altro Shining Ho catturato Un altro Semileggendario Poco fa E ho uno Shining Di livello 2 Che ho in squadra Glimora Con i V perfetti Oltretutto Tipo tutto a 30 Cioè Porco Dio Non resiste mai Con quella cazzo Di focus band Di merda Questo rincoglionito Porco Dio Eh vabbè Poco catturato Che ho catturato Di boss Con i V O strabuoni Oltretutto Ok Ma come fa a resistere Dio cane Con quel token Di merda Che due coglioni Sta roba Madonna Che due palle Hardy Mint Che cazzo Ah Max Survive No Prendi il Max Va bene Luck B No Sì Il Max Mushroom Ce l'ha il Venus Ora ti fa fare Le megani Un momento Un miracolo Oh sto cagacazzo Ok Sì è proprio quello Alex Forrest Revive C'ho anche Non so se usarla Sta roba Per fare Il Revive A Tinkatok Che è un bidone Leftovers Nuts Leftovers A Goldengo Lo diamo È già full A Venus Goldengo Ancora ne può tenere uno È buono lui Questo rompe il cazzo Secondo me Questo mi sa Che rompe i coglioni In una maniera disgustosa Cazzo È speciale o fisico Quello che abbiamo contro È fisico mi sa Allora era forte Tirargli Non gli posso fare i semi Però gli posso fare Lo strength up Matto Lo droppo Ok Nananananananana Lo droppo bro Lo lascio sfogare Sto rincoglionito Poi mal che vado Gli metto col dengo Che gli faccio La tripla shadow ball E lo mando al baretto Se necessario Sta a meno Due d'attacco Strength up A me sembrava L'avesse imparata Non lo so di preciso Cosa sia bro Slash bomb Ok Vuole scoppiare Sto stronzo No Zio peperoni Sta un po' rompendo i coglioni Sto tipo Fa un po' il manesco Fa un po' la carogna Ah ma questo qua Il massimo è 3 Di Barry Pouch Quindi non è 4 Il massimo Il massimo è 3 Che qualcuno ieri Mi diceva Ti serve il quarto Il massimo è 3 Sì sì Gli droppi l'attacco Gli droppi l'attacco E te lo curi Anche in base Al cosa Va bene Questo dogiato Dai Eh sì sì Appunto Poi va bene Nel senso Bella Andre Grazie il follo Sei un po' manesco Xato di merda Eh mi hanno detto Che è forte Non lo so Di preciso in realtà Merda Quanto cazzo Mi fa Psichico Lui sicura Vero ma Eh faccio Prima fare Energy Ball Perché Mi sa che questo È più 6 Di No più 1 Di special Il punto è che Oramita Quel cazzo Di coso È meglio Mandare a morire Rotom Tipo Bo Sludge Non lo so Quanto cazzo Resiste Fatica Però abbiamo giocato bene Perché altrimenti Lì ci shottava il Venuser No Diret Revive Diamo un revive O rolliamo Revive Al Al rotom Magari torna utile Boh Cioè Non lo so Io aspetterei Usare Erazza Erazza No Sa molto di Pokémon Maranza Questo Se posso Make it rain Ok 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 buono 500k Ultra Ball Dipende se C'hai la La roba Aumentata Di Rockball Le roll Magari Con Luck B Quello la Diventa Un coso Focus band Vabbè La devi dare Venosaur Già ne aveva Il massimo Ok Allora Dai gold Dai gold Focus band La dai Secondo me Sempre Lui No Switch Pokémon Si Va il venusaur Le focus band Le dai Bro Ci sono rotte Tanto Quindi C'è la volta Che ti salvano Il culo O comunque Le volte Che il Pokémon Poi non ti muore Quindi Ciò La più Item Cioè Sono sempre Buone Secondo me Questo Lo uccido In 3 Hit Questo Eh Waze Dopo ci sta Rerollare Che il Venusaur E il Gold Angoli Vorrei Maxati In tutti Gli Item Che hanno Oh Non viene Giù Questo Eh Che rompicazzo Sto tipo Quante ne ha ancora Di Lam Una C'è non di Lam Di Citrus Volevo dire Non ne ha più ora Quindi questo Dovrebbe scoppiare Vabbè Non hai la Master Gianco Se non hai la Master Cazzi tuoi Che ve la gridate E poi dopo La prendete nel culetto Io le Master Le prendo sempre Secondo me Sono sempre Da prenderle Le Master Non so mai Da schippare Anche ieri La chat Diceva Eh Rolla Poi oggi Non le avessi avute Sarei morto Poi Latios E Latias Col cazzo Che li catturavamo Che merda Sta roba Dio cane Però Vabbè Prendo la Nugget Non rai rollo Infinito Comunque qua Ora sono quasi Tutti i boss Vedo Oh mamma Ma non gli levo nulla Oh madre Questo Che rottura Il punto è che Schipparlo Vorrebbe dire Perdere un boss Quindi non ha senso Ovviamente Faccio Strength up Dropo L'attacco E via Tanto Come cazzo Ho fatto A togliermi Così tanto Che l'avevo droppato L'attacco No più 5 Ah ok Abbiamo le focus band Tanto quindi Abbiamo il 40% Di rimanere uno di vita Cioè guarda qui Merda È disgustoso Torna full Mio scarada Questo è uno starter Mi sa vero Sì però Che rottura di palle Sta roba C'è il fatto Che sto beccando Solo a erba Pallosi Contro Slash bomb Vediamo È vero Che c'è anche L'item Che fa flinciare A me servirebbe La Dovrei dare Gli item Che quando attacco Due volte Li do a venuser Solo che non sono Splittabili gli item Quindi Non li posso Prendere da goldengo Purtroppo Ok Ma è rimasto vivo Ah Eh Sochmel Che due palle Ok Blizzard Reroll Però senza Il lock De la rarity Mi fa cagare Sta roba Prendiamo questo Ora Non riesco a trovare Quello degli shiny Car qualche raro Gardevoir Gardevoir E psico Coso No Ah qua io switcherei Pokemon Perché non sto Farmando fresca Fra più che altro Quindi Cioè Goldengo deve entrare Ogni tanto Farmare Perché altrimenti È che sto goldengo Qua fa fatica Sui boss Forse non era A togliere Forse non era A togliere Nasti Plota Goldengo Mi viene da dire Non lo so E ancora Assurdo Questa rompe il cazzo Mi sa che è da fuggire Questa Se si locca Su pedalo Danza Non mi fa danno Però È una palla Cioè Sincero Sto trovando solo erba Contro che non soffrono Parassi Parassi Seme Cioè Pare normale A quattro leppa A quattro Citrus A quattro Citrus Tre Due Dopo le Citrus Che non si cura più E si dodge Easy Sludge His name is Used to come Ne ho una Left di Citrus Antibus iOS 17 iOS Sborrante Per cosa è cambiato Dopo lo aggiorno L'iPhone Anche perché ora Mi sa che vado a mangiare È finito Ha raggiunti i 900 Se Dio vuole Ok Comunque con Nerve Questi li fai Ah è uscito ora Ok Già l'ho catturata Roserade In realtà Ok Merda Merda Mi toglie un po' Vai che mi ha Crittato No bro Merda che palle Sto robo Questo non viene Più Il punto è che catturarlo Cioè voglio usare Lo catturo bro Sicuro non uso la master La master per cosa l'ho usata L'altra Ah quello No Per cosa l'ho usata Scusa La master Non avevo 4 E' buono anche No non ho usato La master Ah per monkey d'ore No lo shiny L'ho catturato Con la rock ball L'ho usato Sul Sul semi leggendario Lo shiny L'ho catturato Con la rock ball Lo shiny blue Di livello 2 Questo già ce l'ho Shiny Cin cin No 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 Goldengo è il nuts Bro Goldengo è rotto Ah io volevo vedere una roba Transfer Ehm Qua Ma perché me lo clicca Come se lo cliccassi due volte Dio porco Quali sono le altre uova Lucky egg Lucky egg da 4 È perché volevo dare un lucky egg Al venusor Però Il punto è che non li puoi splittare Volevo dare un lucky egg in più al venusor Che è under leveled Il venusor Il venusor mi serve si è livellato bene Forse lascio il golden a lui E poi magari do gli altri 4 all'altro ora E via E via Ok perché ho bisogno che l'altro livelli Ok perché ho bisogno che l'altro livelli Quanti pp ha giga drain Vabbè tanto le leppe non infinite La metti sempre su quella Sull'altra Cioè La metti sempre su energy ball Troppo più forte Cioè Troppo più Tanto gli dai un pp max Poi a parte c'è infinite leppe Quindi Here we come Ok Già un pp up Ci sta a darlo Se uno vuole Sì dai gli do pp up Tanto Ah ma ne ha già 10 in realtà Quanta power ha giga drain in realtà Non è quella È quella da 40 No quella è mega drain Giga è da 60 No Dio boia Da questo devo fuggire bro Per forza Mi uccide Mi uccide Psico È che questo non lo posso catturare Merda Ah non puoi fuggire da questi Ah tu non puoi fuggire da loro Ah dagli iron non puoi fuggire Ho 7 Non li puoi né catturare Né fuggire dai paradox Ho 7 La domanda è Boh Ai round rossi non puoi No sì certe volte puoi Mi pare L'unico Questo è un problema Perché non lo posso né catturare Né fuggire Non si fa F Gli tolgo un po' con i semi Però Lui è solo speciale Ho anche roba fisica Rega Di mosse intendo Con Goldengo cosa gli faccio La shadow ball Dal punto è che non gli leva nulla Giga drain Cioè Cosa gli fa Giga drain bro Voglio dire for so in attack Qua sarebbe da switchare Perché ora prendo la hit Di coso È meglio farmi morire Rotom Che prendermi un danno Allucinante su quello Cioè Non dovrebbe funzionare I Quelli dopo no Sì ho capito È future side Però voglio dire Di solito Dopo che ne fai uno Gli altri due Non vanno a segno Cioè aumentano la potenza Di quello che dopo ti fa Se ora te li fa Cioè Funziona diverso Da come funzionava nella Kaizo Questo chiedo Hai un buon match up con Goldengo Sono morto Ho sette Sta run mi sa Cioè Flash cannon Oltretutto Con flash cannon Mi shotta Goldengo Eh sì È fatto di carta Goldengo Il discorso è quello Non puoi tirarla Masterball bro Nessun monso Pravviva a quello Nemmeno il venus Orbro Come fa a ridurre special Può fare covetta Al massimo E provare a fottere Un item Ma Il punto è che lui Quante Quante Cioè C'ha Tre C'ha tre Citrus Cazzo C'ha due Citrus Ancora Ha una Citrus Ancora L'illiganto A due Lam Non ha Senso Cosa Fa Il ping And Tipo Magari Lui non Muore In due Turni Lo Parro C'ha Una Lam Ora Ha l'ultima Citrus E ora Non ha più Citrus Però lui È da mettere Gmax Venusaur Non so Se siano Morti Close Secondo me E poi Glimor Il turno Che lui Cosa No Lui non Ha più Citrus E non Ha più Lam Ora Fa le Leppe Ma Cosa Wow Mamma mia Il Venusaur Col flinch Bro Dai Con la Parra Dai Allora Mamma mia Il Venusaur La carri Ancora lui Bro Pazzia Pazzia Il Venusaur La carri Ancora lui Mattanza Questa In cotta Entra lui Di nuovo L'abbiamo giocata Bene con la Parra Eh però L'abbiamo giocata Bene con le due Staspor Facendo di usare Le due Lam Perché ci ha premiato Bro Cioè Non abbiamo buttato Pokémon a caso Merda Assurdo Merda Incredibile Che cuore Mizzega Che fatica No 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 Basta Che merda Però Zio Cane Cioè Perché rischi Di morire Da una parte All'altra È tipo La È tipo Radical Red Quando Quando arrivi alle palestre Avanti Cioè C'è chi piace Chi non piace Per me Lì tipo Radical Red Quando rischi di morire Di continuo È bellissimo Da guardare In realtà Ora Sti round Qua che rischi Di morire Un round C1 No È bellissimo La giga Divertente Dunque Reroll Nugget Ma sì Dai Mo salvo Che stacco Volevo fare Il secondo Pokémon Us Scanner Un Charizard Oltretutto Una palla Volante Fuoco Eh sì Ho catturato Uno Shine Us Us Un Charizard No No Return To Title Abbiamo catturato Latios Latias Di fila Oggi Cioè Di fila Un round Dopo l'altro Fortuna Avevo le Master Ball Poi che dopo Voglio giocare Le classic Ci sta Però ora A me sta divertendo Sta run qua Cioè Quando arrivi a stifare È brutto il mid Ma quando arrivi Tipo Ora Verso l'860 870 Ora è tostissimo Cioè Veramente Su 40 round In 20 Vi ha rischiato di morire Stamani Che ne so Ho detto un numero Così per dire Però Più o meno Quello è Vediamo se mi ha salvato Tutto per bene Giusto perché E poi comunque Vabbè Una long run È bello farla Secondo me A prescindere Una Per vedere Un po' com'è Ma era con tutti i gettoni Del congelamento Comunque ci sono 41.000 persone Che stanno giocando In contemporanea Questo ora È incredibile Che stanno giocando